ho due ore di libertà vado in giro per la città e cammino così piano guardo da lontano tutto quello che mi va guarda quello che faccia fa sembra triste cosa avrà guarda quella ragazzina che passa e si muove come forse già chissà chi ma chi è questa gente che io guardo chi è e dove va e come sta sarà felice oppure no ma chi è questa gente che cammina con me e dove va e come sta si capirà oppure no sopra il tram numero 3 guarda un po' che piena c'è una vecchia piccolina come una gattina cerca il posto che non c'è poi nei bar sul metro quante facce troverò c'è uno che sorride peato e quell'altro lì con la giacca blu sempre su ma chi è questa gente che io guardo chi è e dove va e come sta sarà felice oppure no ma chi è questa gente che cammina con me e dove va e come sta si capirà oppure no ma chi è questa gente che cammina con me e dove va e come sta si capirà ma chi è questa gente che io guardo chi è sarà felice oppure no ma chi è questa gente che io guardo chi è oppure no Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh